Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Insiste l'anticiclone dell'Azorre su mezza Italia, ovvero al centro e al sud, mentre il nord nel corso di questo venerdì assisterà ad un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriverà aria un po' più fresca e instabile nord atlantica che porterà ad un aumento della nuvolosità e all'arrivo di qualche pioggia debole sulla Liguria e un po' di neve sull'arco alpino. Si tratterà dei primi fenomeni dopo oltre un mese e mezzo di costante siccità. In Abruzzo, nuova giornata a tratti primaverile, avremo temperature massime fino a 14, localmente 15 gradi alle basse quote sulle coste, tanto sole per tutta la giornata, quindi una giornata molto molto stabile, temperature minime stazionarie tra 1 e 7 gradi, ventilazione molto debole o assente. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. www.safegatepro.com